bello a tutti ragazzi sono qui le benvenuti in questo nuovissimo video di bus simulator 18 ragazzi oggi siamo i compagni di tambortop che oggi guiderà bene che tanto guida sempre bene oggi faremo proprio i serie abbiamo creato una nuova partita perché quella di prima non ci faceva unire e boh ma io manco avevo aperto le portiere cioè possiamo partire te vai metti la freccia dopo sta macchina marrone marrone come il cacchino aspetta una portiera aperta si sarà bloccato qualcuno zio ma qua non vanno avanti sto incrocio della merla ok andiamo beh andiamo una paulona oh no è sto qua deficiente non è colpa mia zio fermo lì cretino ascolta sti deficienti era io mi sono incastrato e mazzia dobbiamo fare il boss poi porta bus su strada ma zio cioè dobbiamo stare lontani perché sennò zio vai te davanti aspetta c'è sta macchina con la diretta e passa allora la fermata zio alla fermata adesso mi accorso sul lato fai prima te la fermata e mi aspetti però mi ha messo la freccia te diciamo entri bene in fermata quasi 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 c'è uno scusa un disabile oh no da me no no facciamo ci aspettiamo per partire allora ok vai avanti avanti hai fatto te? si si no aspetta ok è molto più comodo con i specchi virtuali comunque cerchiamo di andare più più piano cosa meno siamo punti alle infrenate e tutte queste cose qua si ma guarda questo davanti a noi hai visto? no cosa? eh stava per andare da su una macchina ma tanto si trapassano ma testa di ma c'era il coso? cosa? no ma porca incendiata addosso vero? cioè te inchiodi madonna zio ma è che inchiodi? ma te un po' più avanti puoi andare cioè penso anche agli altri porca aspetta un attimo che deve essere lì altra gente posso andare? aspetta no no dico io quando andate vai andiamo però zio ascolta vai un po' più avanti alla fermata così ci sto anch'io zio guida piano facciamo un minimo massimo 60 eh io sto andando a 60 ah beh frena no zio non tamponare gli altri apposta no non stai facendo apposta non mi sembra dai anche io l'ho tamponato questa è la soggiornata più brutta del mondo facciamo così stiamo anche un po' distanziati almeno siamo sicuri questa qui è una rotonda non è una rotonda no non è questa la 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 rotonda maledetta ah è simile cioè sono tutte rotonde cioè però le rotonde sai che sono più scorevoli dell'incrocio stai dietro si comunque stiamo anche vai un po' più piano e stiamo anche un po' più distanti zio vai piano cos'è meno le inchiodate sei pronto e poi per le inchiodate proprio quelle potenti usa il frena mano anche se ti do la penalità cerchi di andare più avanti si e poi ragazzi noi pensavamo di creare una nuova partita che abbiamo i soldi aspetta no zio ma un pochino più aspetta aspetta guarda ecco così ma che vada zio aspetto fuori cioè non c'è problema ma che alcuni dicono aspetta stanno salendo a me questi alcuni dicono ascolta fanno la stessa andiamo da un altro wow questo è un bel bus Michi ci credo grazie comunque signora si ma è meglio che andiamo che stiamo intalciando il pregio della tangenziale Milano ciao Luca Luca è pieno di buche si sta strada maledetta poi quando usce la pioggia che non si vede niente in strada io sono andando a 70 aspetta che rallento un pochino ecco l'ho centrata la buca facciamo che fanno un incidente alla penalità volevo dire ecco volevo dire che volevamo creare una nuova partita per con i soldi che ci sono non con in costa infiniti cosa meno la viviamo un po' più alla vita reale io sto guardando dietro ciao sei dietro ma non corriamo zio ecco ma zio cioè stiamo attenti stai stai beh diciamo ah io vado ma quanta giorni io sto andando a 40 è rosso guarda che è rosso guarda che è rosso no il nostro camion è andato a manetta hai visto? no che bello vedere guarda come si mette bene aspetta che stai eh ma allora grande grande però anche questa è lunghissima come fermata veramente enorme secondo me ce ne possono ci possono stare due lunghi cioè 36 metri e uno da 9 metri tipo e non è poco eh oh cos'è questo dolore? aveva detto una no 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 starò schiacciato al dito speriamo questa qua ha detto abbiamo mi sembra appena nerebbe di stare in un videogioco ovvio sembra di stare in un videogioco no ma vai ma stai scherzando ma sembra no così ci stai anche dai sì ma queste fermate qua sono enormi zio che belle che sono ma te sei super io sono sopra marcia a piedi se no non ci stai eh ma zio cioè calcola anche te com'è la fermata oh tutti mi stanno facendo i complimenti per il pullman nuovo anche a me che bello aspetta un attimo fermo eh zio quando devi fare tornare cioè eh avvisami che se no ti vengo mi vieni in faccia bella l'acqua non la vedo ah beh bella aspetta ciao ciao ho preso la pozzanghe vedo la fermata vediamo com'è no qua non ci stiamo vabbè aspetta 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 no vabbè aspetta mi metto così dovresti scagli no zio ma te no zio mettiti non male te no no così ci scagli guarda sì ma voglio dire te mettiti non male mi attacco io alle palline ah ok va bene vabbè questa fermata va bene così pari la prossima sì continuano a dimmi mi piace questo bus che bello anche a me mi hanno detto mi piace questo bus eh ma magari tipo sentono cioè i miei messaggi vengono anche come tu vuoi oh aspetta devo fare retromarcia sì ma aspetta un attimo vai ok quando fai retromarcia devi andare piano però poi ti volevo dire cioè come adesso ho fatto adesso ma va bene e volevo dirti che te la fermata metti fino male poi quando fai retromarcia dicono anche a te perché hai lo stesso messaggio diciamo è veramente bello poi questo bus sì a me io di solito quando guardo i bus sono gli interni dove del macchinista cioè quello dell'autista e l'estetica adesso la faccio bene la fermata io sono sempre uno che parla che guarda sempre l'estetica sia interna adesso mi metto bene informata questa qua è pure piccola ecco così va bene si aspetta vedo se ci sto aspetta potrei andare un po' più avanti no 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 stai fermo così tranquilla infatti cioè non è una cosa come dire a chi tu vuoi ma fatti gli affari tuoi poi mi attacco io no guarda aspetta così vai vai vado cioè io guardo già va che dobbiamo andare a sinistra ecco questa è una cosa illegalissima eh mi ero accorto dopo infatti cerca sempre di guardare il navigatore ma io sono fermo qua se riusci mettiti dentro tutta la la fermata ma si ma qua ci entro tranquilla si ma se vuoi non è un problema fai così te vai 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 te eh ma devo fare la fermata qua si si dico ma zio ma vai te vediamo facciamo tipo anche il dopo andiamo oh ascolta mi sono rottore pari stagli ti ho una caragnata eh cioè stavo dicendo facciamo che tipo parte prima uno poi l'altro o almeno poi è bello che uno aspetta l'altro la fermata ok vai io sono partito vai vai ti ho visto mi sto imparando giocando si impara anzi sbagliando si impara avanti sale prima di quella che sto facendo adesso buongiorno deve salire ok chiudiamo le porte e possiamo partire dai che è verde comunque è bello guidare il pulmetto è bello porca misè ecco ma porca zio successo ho preso una macchina alla fermata ho mai messo la rotonda maledetta si no semmai dopo ne caro una con ma la prima ha concludo il video ti hanno fatto la foto? si come fai a sapere sei dietro di me? no ho sentito toc come se fossi lì zio devo fare botta bussa su strada che palle però aspetta che qua ci sono le banchie devo andare in un'altra bussa per banchia vai in banchina? banchina 6 no banchina 6 ah sei già lì madonna io sono al Doyle street no madonna come ho girato bene alla banchina 6 mi sa che qua devono scendere lì si infatti qua è l'ultima poi fai attenzione quando dice next stop tipo bus center per favore uscite dal pullman oh ma io ti aspetto qui eh si si aspetta il tigli aspettami lì cerca però di spostarti dalla mia banchina mi metto tipo con stop non post aspetta che provo a vedere dove mettermi eh un attimo che guardo con gli spottietti buongiorno ma poi sto gioco paga avranno in pullman per fare tipo neanche 50 metri va bene che è un gioco che deve non salire più gente possibile però cacchio un po' di logica aspetta che sto un po' nelle prese di da cosa vabbè può anche essere uno non ha tempo uno non ha voglia uno non lo sa che è l'ultima fermata però vabbè un po' di logica non ha not un po' di logica Ci sei? Si, sto arrivando. Te poi quando non hai niente da fare, vai su bus e allenati. Sì, non puoi vedi su Forte, che è questa. E io vado su Forte. Ok, perché a me Forte l'altro giorno sono entrati e non mi va. Ah, e io poi vado su Forte. Ah, hai parcheggiato qua, buona fortuna. Andorra, ho fatto una retromarcia e non ho preso niente, lo sai? Grande. Mi sono messo qua. Ecco, no io sono entrato benissimo nella banchina. E io non ho guardato. Eh, banchina 6 ti frega sempre. Perché devi fare la curva stretta. Quindi c'è, ti frega la banchina 6. Perché di non venirmi addosso, se vuoi lo sposto qui indietro, eh. No, no, vai bene lì. Aspetta che, guarda, guarda come entro nella banchina, sei pronto? Aspetta. Vai, anch'io da cos'è a mano. Vai? Vado. Perfetto. Quasi. Vai, vai avanti che ti impidiamo. Anche io ci metto dal bus. Se lo spengo e scendo. Aspetta che lo spengo. Spengi tu. Si è spento? Boh. Ma non si spengi il bus? Ok, si è spento. Ok, io sono uscito dal bus. Aspetta che stanno ancora scendendo. Sì, ma sveglia, gente. 15 minuti dopo no, eh. Ciao. Ciao. Mi vedi? Sì. Ah, ma te adesso cambi gioco, va. Sì, se vuoi devi venire, vai. Tanto gioco con Ginevra. Ah, ma non mi va. Vabbè. Ragazzi, ci vediamo un po' semplice.